è vero che cos'è che hai? cosa? no dai Federico a chi? chi? non sente più niente ma per cos'è che cos'è che hai? cos'è che hai? ah vedete qua senti cos'hai un tappo di cerume? forse un mortice e come facciamo a fare lo spettacolo? non lo so ma riesci a suonare? però non sento quello che suona come va? come va Federico? come va? Fede allora la cosa che ha detto più veloce è il cono però mi ha detto che se senti come sbalzi di pressione di andare a misurare la pressione modalità 2 collocare il cono nell'apposito foro del dischetto, dove è il dischetto? ah già c'è il dischetto no, consumato circa 3 quarti e spegnere la fiamma nell'acqua beh li buttiamo su questa vai non mi brucia l'orecchio? si? sento meglio adesso? ti fa male davvero? senti qualcosa? ed entro bene nell'orecchio? non senti niente? togliere il cono dal foro quando sarà consumato circa 3 quarti? ah toglie? no aspetta non è ancora 3 quarti? oh madonna ma ragazzi ma Andrea ma come facciamo a fare lo spettacolo? ma non è importante che senta basta che suoni no aspetta non senta ragazzi non posso fare lo spettacolo grazie 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 Grazie.